Sono Wright Grimani, vi presento Waiting, la mia installazione qui alla Galleria Opera Unica di Roma. È una ricostruzione, come potete ben vedere, di una sorta di una camera iperbarica. Sì, questa è la cartella clinica vera e propria relativa all'uomo video. Ha 88 anni, chiaramente. È nato a Londra, presentato in una catena di supermercati 88 anni fa. Dalla diagnosi si possono chiaramente capire quali sono le condizioni attuali del paziente. Questa per me è la rappresentazione della fine dell'era dell'uomo video. È in queste condizioni perché non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta a mantenere le promesse iniziali che erano state fatte appunto negli anni 60, soprattutto 50, 60 e 70, periodi fulgidi per quanto riguarda l'informazione e la proposta televisiva. Qui abbiamo una sedia vuota. La sedia vuota è vuota perché vuole rappresentare il pubblico, ma anche gli stessi addetti lavori che si sono sentiti traditi e non sono più disposti ad assistere praticamente a un paziente che non vuole guarire in nessun modo. Il camice bianco invece appeso è il camice di Kia, le ha tentate tutte, le ha tentate tutte fino all'ultimo momento e rappresenta un segno di resa, di resa di fronte all'impossibilità di poter intervenire perché il paziente non vuole essere aiutato, rifiuta l'aiuto.